Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano Dardine 15 a Tripanda. Tutte belle notizie, quelle che arrivano per il frangipane con il nuovo piano ospedaliero che sarà presentato domani ad Avellino e già anticipato dal manager dell'Asl Maria Morgante ad Ariano in occasione dell'inaugurazione della lungodeggenza. Ma il problema grosso per il nostro comio arianese resta il personale. Mancano gli OS, operatori sociosanitari. In pratica per far fronte proprio alle esigenze del nuovo reparto di lungodeggenza, infermieri e OS sono stati tolti qua e là, in particolare dal reparto di dialisi, una vera eccellenza per altre ragioni, con macchinari nuovi ed oltre 25 dializzati assistiti. E si sa, quando la coperta è corta qualcuno resta scoperto. In pratica, quanto ci raccontano gli stessi dializzati, a metà mattina nel reparto si verifica un buco a causa dei turni a cui sono sottoposti gli OS. Fanno un'ora e mezza all'arrivo degli utenti, poi vanno in altri reparti e ritornano per un'altra ora e mezza al momento dello stacco dai macchinari. E pare che vi sia in previsione lo spostamento anche di un altro infermiere. Questo renderebbe impossibile fare il turno pomeridiano nei giorni pari. Sempre a causa della carenza di personale infermieristico, ma anche medico, è stato necessario sospendere la dialisi peritoneale, ma gli OS, che ora dipendono dal reparto di medicina, sono stati ridotti anche in sala operatoria al pronto soccorso. L'auspicio è che la morgante, che sta dimostrando di avere a cuore le sorti dell'ospedale di Ariano, trovi al più presto una soluzione anche rispetto alla carenza di personale, visto che nel piano ospedaliero campano per Ariano, finalmente classificato DEA di primo livello, sono previsti oltre 20 nuovi posti letto in quattro nuovi reparti.